Allora, guarda tu stessi adesso, perfetto, io mescolo le carte, giusto? Uh-huh. Ok? Ora ti chiedo, prendi una carta, quella che vuoi tu, viverla, come tu vuoi. Ora è buona, la fai vedere in camera. Fatto? Sì. Ok? Ora, ragazzi, questa carta è l'unica al mondo, anche se la vedo io non cambia niente, la vedete, non ti preoccupare, ok? 8 di picche, giusto? Sì. Sì, è quello che è l'unica al mondo, no? Sì. Altra cosa importante, che può essere dovunque, non voglio sapere che posso mescolare quante volte voglio, io mescolo e la carta che le mette sale. No. Non è questa. Scusate, no, meglio così. Eccola qui. Molto meglio così. Eh, è l'altro di picche. Molto meglio così, molto meglio. L'altro di picche ha una particolarità, se lo lascio dentro così e ha, vedi, vedi che sto prendendo, giusto? Eh. Dimmi stop, come vuoi tu? Stop. Prima, secondo, terza. Terza. Questa? Sì. Posso? Gira. No, dai, è l'altro di picche. Interessante. Di nuovo. C'è, proprio la carta. Eh. Ma c'è di più. Se io prendo il masso di carte, vedi, guarda tu stessa. Sì? No. E questa è cos'è? Chiaramente. No, dai, è passata di qua e poi la. Mi sembra di più persone. No, dai. Ciao ragazzi, non ti vuoi. No, dai. Ciao ragazzi.